Qualche giorno fa alcune ragazzine hanno suonato il mio citofono Chi è? E dopo aver scattato qualche foto insieme e fatto due chiacchiere mi hanno lasciato questo pacchettino Troppo cute Sapete che non è il mio genere fare questa tipologia di video Però mi andava di condividere con voi un gesto così carino e significativo sia per le ragazzine ma soprattutto per me Nelle mie live ringrazio sempre tutti coloro che tramite l'indirizzo della mia pizzeria mi inviano lettere, cartoline, regalini Però se oggi ho deciso di fare questo video per Giorgia, Laura, Alice e Mia è perché era doveroso nei loro confronti Dato che ribadisco sono state dolcissime a venire fin qui sotto casa mia Già questa dedica mi scioglie il cuore Grazie per i tuoi sorrisi Da aprire su TikTok G.M.L.A Ed eccovi accontentate bimbi mie Tante letterine Ho avuto molti momenti bui ma grazie a te mi sono sempre rallegrata Ti voglio un mondo di bene Laura Ti voglio un mondo di bene Laura P.S. Mia madre ti adora, grazie E ancora grazie per i tuoi sorrisi nei momenti brutti Allora, parlo a queste ragazzine ed ovviamente a tutti voi che mi seguite Perché tramite messaggi, dediche che mi mandate quotidianamente mi dimostrate il vostro affetto Io vi sono grata, grata per tutto quello che fate per me Per le dolcissime parole che utilizzate nei miei confronti Per i sorrisi che voi regalate a me Ma soprattutto mi sento in dovere io di ringraziare voi Perché mi fate sentire importante Importante perché sapere di essere d'aiuto per qualcuno che sta magari attraversando un brutto periodo O strappare un sorriso attraverso i miei video stupidi Mi rende davvero orgogliosa Ed è proprio questo che mi sprona a continuare Perché se no ragazzi vi dico la verità Con la vita frenetica che ho avrei già abbandonato Comunque, Alice, Giorgia, Laura e Mina non mi hanno onorata soltanto di queste splendide parole Ma, dadà Guardate qua come sono belle Ora chiedo a te, a capo del globo Tu che sei stata la loro musa aspiratrice Sono state brave? Stiamo parlando di ragazzine delle elementari E hanno quasi superato il maestro Comunque bimbi e bimbe mie Vi mando un bacione Vi ringrazio dal profondo del cuore E vi saluto Ciao Ciao